In casa, la mamma sta stirando, il figlioletto di 9 anni nella stanza accanto e gioca con il trenino. A un certo punto la mamma si ferma e sente e il figlioletto gli fa Tintan, ci avete rotto il cazzo, siamo arrivati alla stazione di Firenze, non vedo l'ora che scendete tutti perché siete stati dei passeggeri di merda. Avete fumato e avete sporcato tutto, scendete che ci avete proprio rotto. Ehi, fa la mamma, che sono queste parole? Ma la vuoi finire? Non si dicono queste parole? Lascia questo trenino e vai in cameretto, due euro di punizione e quando esci si vede, passano due ore, vai a giocare col trenino e se sento una sola parola il trenino te lo rompo, va bene? Il bambino entra là e inizia a giocare la mamma con l'orecchio, sento Tintan, siamo arrivati alla stazione di Torino, ringraziamo per aver scelto il Trenitalia, siete stati passeggeri eccellenti, non avete fumato, siete stati veramente un esempio per tutti. Vi ringraziamo e vi ricordiamo di prendere i vostri bagagli e vi rinnoviamo il ricordo di non fumare mai. Se voi volete sapere perché abbiamo fatto due euro di ritardo, chiedete a quella stronza che sta nella porta a fare.